Ciao a tutti! Oggi prepareremo il purè di patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono patate a fette, latte, sale, burro, noce moscata e parmigiano. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo il via alla ricetta. Iniziamo posizionando subito la farfalla. Mettiamo le patate all'interno del boccale. Aggiungiamo il latte e il sale. Andiamo a cuocere il tutto per 30 minuti. 95 gradi. Velocità 2. Adesso andiamo a rimuovere il misurino e a posizionare il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. Adesso togliamo il cestello e andiamo ad aggiungere il burro, il parmigiano e la noce roscana e andiamo a montare il tutto per 30 secondi velocità 3.5. Il nostro purè è pronto. Andiamo a impiattarlo. Purè di patate. Grazie e alla prossima ricetta.